Dobbiamo trovarti una pistola nuova, però questa volta provala. Quanto manca la casa del russo? Ci siamo tra un attimo. Andiamo. No, vacce piano Vinny. Non possiamo beccarli ora, dobbiamo seguirli. Comunque tu non dovresti bere quella roba. Perché? Che male c'è? Non è in linea con l'evoluzione. Ma piantala. Come vuoi sbarazzartene? Beh, vuoi spararli? Un po' rumoroso, no? Allora vuoi accoltellarlo. Un po' a sangue freddo come cosa. Ma lo vuoi uccidere o no? Lo faccio a pezzi io. Ho una lama. Ecco, è lo spirito giusto. Ma sparano. Certo che sparano. Come fai a saperlo? Cioè, sono false? Te ne intendi di copie false? Ma si può sapere che cazzo fai, Solavon? Beh, volevi sapere se funzionavano o no? Non volevo dire di provarle proprio dentro la macchina, Sol. Testa di cazzo. Che vorresti fare con quello? Pulirgli i detti? Mettilo via e usalo per il burro. Guarda, lì sotto c'è una lama come si deve. Le mucche sono state addomesticate solo negli ultimi 8.000 anni. Prima se ne andavano in giro pazze come cavallette. L'apparato digerente umano non si è ancora adattato a tutti i tipi di latticini. Puttana troia, Tom. Ma che hai letto ultimamente? Voglio farti un favore. Ops. Tu, vuoi un coltello? Io? No, no, io non so perché farmene. È solo un coltello, santo cielo. Che hai usato finora per far compagnia alla porchetta? C'è una parte affilata e una no. Cosa vuoi? Una lezione? Quello non è Boris. Oh, Tyron, che cosa hai fatto? È con Rosabella. Ah, beh. Puoi portarlo con te se vuoi. Ma quale pezzo ti vuoi portare? Stanno uscendo. Scendi e stagli appresso. Copriti, Ari. Stai dando spettacolo. Sono mortificato per lo spettacolo, Tony. No, non vorrei portarti dietro quel cane, Vince. Beh, ma non posso mica lasciarlo qui, no? Ho una pinta di scura, capo. Credevo volessi darti una sistemata. Il bagno è lì dietro. Ha lasciato la porta aperta. Non mi pare un'idea brillante. Entriamo? Io non voglio entrare. È pericoloso quel bastardo. Si è preso troppe pasticche da sballo al culmine dello sballo sovietico. Quello ha tante palle qui sotto, quante pigne ha qui dentro. Me ne frego di quante palle e di quante pigne ha. Io voglio una pistola che funziona. E adesso glielo dico in faccia. Mio Dio, Tommy. Ma allora sei carico davvero? Beh, andiamo, no? Prima che arrivino i tatteschi. Forza, fagli vedere chi comanda. Senti, Boris. Io voglio una. Ve l'hai fatto vedere, Tommy. Di pier boy. Alla trotta che annega. Dovete venirci a prendere. Doug. Doug, fiondatevi. Non voglio casini. E non voglio ficcarti una pallottola in testa, ma se non mi dai esattamente quello che voglio, qualcuno farà una brutta fine. Come ti chiami? Sparagli. Molla immediatamente quella pistola. E cos'è? Tu ovviamente sei il grande cazzone. E loro due, i tuoi fianchi, sono le tue palle. Ci sono due tipi di palle. Palle quadrate e toste. E poi le palline musce da finocchi. Sono le tue ultime parole. È meglio che le usi per pregare. Vedi, i cazzoni vanno dritti e ci vedono chiaro. Ma non sono intelligenti. Sentono odore di passera. E vogliono mettersi a giocare. E tu credevi di aver fiutato una bella passera. E ti sei tirato dietro anche quelle due palline musce da finocchio per divertimento. Però hai fregato in pieno i tuoi compagni. Non c'è passera qui, solo sifilide. Rimpiangerete di non essere nati donne. Da bravo cazzone. Se ci pensi ti ammusce. Cominci a rattrappirti. E le tue palline si rattrappiscono insieme a te. Il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole... E che invece ci sia Desert Eagle. Punto 5-0. Sul fianco della mia... Dovrebbe precipitare... Di colpo te e le tue palle nel tuo buco nero. Andate. A farvi fottere. Chiudi la porta. Restorce. Dammi quella valigetta. Vaffanculo. Sparami. Infatti. Adesso ti sparo. Guarda che non sto scherzando. Io ti sparo sul set. Passami valigetta. O io ti spara. Sai che ti dico? Vaffanculo pure tu. Avanti, sparami. Mi fai un bel favore. Stronzo di url. Vaffanculo. Avanti. Voi. Mollate pistole. Vaffanculo. Molla tu il tuo fucile. Annuda mai. Avi. Tirati sui calzini. Tyron. Piccadroia. Andiamo via. Dai, valigetta. Ali. Dov'è la valigetta? Metti via la pistola. Io... Che ci fa qui, Boris? Boris? Che cosa ci fai qui? Vaffanculo. Dov'è la valigetta? Pensati in merda. Non fare l'offeso, Boris. Io ti fa vedere. Vaffanculo. Quasi. Porca di quell'abbagoscia. Vaffanculo. Teglia. Che gran culo brutto bastardo. Vaffanculo. Grazie a tutti.